Allora, il lancio del nastro, notare il materasso qua sotto per la caduta del drone lancio del... Ahia! Ecco qua! Devi proprio beccarlo bene! Il drone è spieggiato lassù lancio Oh! 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 Dai, 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 dai! Cazzo! Forse è preso! Cazzo! Ragazzi ci siamo! Ci siamo! La ola qua ci abbiamo! Dai, ti prego! Vieni giù! No! Cazzo! 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 Ciao a tutti ragazzi! Nuovo bando! Allora la prima cosa che faccio è che voglio salutare Alessandro e suo figlio Andrea Adesso non sto a stare nei dettagli ma hanno fatto una bellissima cosa per me! E niente, spero che guardino il video perché hanno detto che sono sempre qui a vedere i miei video e niente! Perlostriamo il bando come sempre a piedi per capire un po' le linee, cosa possiamo fare! Allora qui c'è un po' di roba abbandonata! Ok! Allora qui ringrazio sempre Joe Arumat per la segnalazione dei bando! Allora volevo vedere in realtà queste linee qua! Ok! Vediamo qua dentro! Che erano interessanti! Magari in quella casetta! Dopo ci facciamo un giro col drone! Allora ecco qua! Volevo vedere questo tunnel! Ok! Guardate qua! Questo sicuramente da fare! Vediamo anche qua! Arriva in fondo! Laggiù vedo! Che c'è qualcosa però! Ok! Continuiamo il giro! Allora qui c'è altre cosette da fare carine! Qui vedo che dall'alto magari se c'è qualche buco ci si può fare! Allora qua vedo altra struttura! Un'altra struttura qua giù in fondo! Eh! Chissà se da un unico punto riusciamo a fare tutto il giro del bando! Ok! Ah! Eccoli qua gli altri buchi! Ok! Lì abbiamo altri buchi! Lì abbiamo altre strutture! Adesso andiamo a vedere! Ok ragazzi ci stiamo addentrando nel vivo del bando! Allora non pensavo che era così grosso! Me lo immaginavo più piccolo! Secondo me da un solo punto non riusciamo a beccarlo! Probabilmente noi ci posizioneremo da queste parti perché qui ci sono dei buchi interessanti da fare! Qua ce ne sono degli altri! Qua abbiamo altre strutture! Poi là dietro appunto avevamo il tunnel! Ma vediamo se qua riusciamo a fare entrate e uscite! No qui! Vediamo se qua abbiamo delle entrate e delle uscite! Mamma mia! Grande sto bando! Allora! Qui! Altra uscita là dietro! Direi che un buon punto all'ombra potrebbe essere qua! Qua! Potrebbe essere buono! Vediamo! Dovremmo riuscire a coprire un po' tutti i punti! Ah! Qui avevamo il tunnel! Ok! Qui dall'alto vedremo un po' dall'alto! Cosa si riesce a fare! Abbiamo qualche graffito! Niente! Niente! È da fare! Ok! Qui ci sono troppi troppi alberi! Troppe troppe cose! Perché se no poi se si incastra non si recupera! E niente! Iniziamo a sorvolare e fare il bando! No! Triccino! Iniziamo! Niente! Niente! Altra uscita la parola! Grazie a tutti. 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 Non ci credo. Non troppo sotto che ti avrei le copie in testa. No, vai il copie a destra. Dai, dai. Vai dentro, vai dentro. Ancora, ancora, ancora. No, eccolo, 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 ragazzi. Vieni, vieni, cade, cade. Ma vai, grandi, ma vai, grandi. Cioè, questa è da incorniciare, ragazzi. Recupero. Grande. Ci dono così. Grazie, guarda, non so cosa dire. Mamma mia, grandi, ragazzi. No, 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 no.